A raccontare i basket, a raccontare i basket a livello giovanile per una società che a Sassari si fa davvero grande onore, perché stiamo parlando del basket 90, ne parliamo con uno dei coach, Giulio Fenu, che ci presenta quello che è stata la stagione che vi ha visto protagoniste e ripeto, con tanti, tanti giovani. Sì, abbiamo fatto una bellissima stagione sino a questo momento, qui il basket 90 l'obiettivo è sempre lo stesso, prendere i giovani ragazzi, le giovani ragazze da piccoline, farli crescere in un ambiente sano, in un ambiente dove si sta bene insieme, dove ci si diverte, un ambiente sereno e sano e portarli sino ai campionati giovanili e verso le prime squadre. Puro settore giovanile che significa grande impegno, scopritori di talenti, diciamocela tutta, e poi soprattutto non c'è il punto fisso di dover necessariamente vincere, perché la vittoria più grande è quella proprio che dicevi tu, che anzi far crescere le giovani promesse. Assolutamente, sì, il vincere e il perdere sono il risultato del lavoro che è stato fatto, ma tutto il lavoro è improntato sulla crescita tecnica, sulla crescita fisica, sulla crescita della comprensione del gioco. Il risultato più grande è avere un settore giovanile sano, numeroso, con ragazzi che giocano a pallacanestro e che vengono qui con piacere, con passione e che stanno bene dentro la palestra. Questo è l'obiettivo del Basque 90. Giulio, le soddisfazioni però arrivano anche quando qualche elemento delle vostre squadre viene chiamato a far parte di rappresentative e anche, perché no, di tornei che si svolgono nella penisola. Significa che la crescita dei talenti è seguita anche dai talent? Assolutamente, sì. I riconoscimenti individuali che in uno sport come la pallacanestro sono normali e fanno parte del gioco, a noi ci riempiono d'orgoglio e ci fanno piacere. Abbiamo diversi ragazzi e ragazze che orbitano nelle selezioni regionali, abbiamo avuto alcuni ragazzi che sono entrati a far parte dei raduni nazionali, giovanili, e abbiamo comunque anche ragazze che sono riserve a casa. E anche questo ci riempie di orgoglio, perché è un segnale forte che anche il lavoro dentro il campo sta dando i suoi frutti. Noi adesso ne approfittiamo ringraziando tutti il tempo che ci hai concesso per sentire anche una di queste ragazze, parleremo con un'atleta che è reduce da una recente trasferta oltre Isola e che ha dato grandi soddisfazioni. Se ci vuoi accennare quel cosina poi sentiremo l'atleta. Sì, Giulia è una ragazza splendida, una ragazza che è cresciuta a pallacanestro Alguero, è arrivata quest'anno al Basco e 90 e gioca nella nostra squadra under 15 femminile. Lei è stata chiamata appunto nel raduno della nazionale di Giovanni Lucchesi, che è il assistente della nazionale maggiore, e ha fatto un raduno di cinque giorni a Chianciano. Lei è una ragazza splendida, talentuosissima, ma la sua dote più grande è che starebbe in palestra giorno e notte e questa è la base per chi vuole arrivare a un certo livello. E lei ha tutte le carte in regola per farlo. Adesso ve la presenteremo, grazie Giulio. Grazie a voi.